Anoressia, bulimia, disturbo di alimentazione incontrollata e obesità sono quattro facce della stessa medaglia, vale a dire un disturbo del comportamento alimentare. L'anoressia in particolare è una malattia molto grave che colpisce le giovani donne e può portare a morte nel 5-6% dei casi. Le manifestazioni più importanti e più evidenti di questa malattia sono la menorrea, cioè l'assenza di mestruazioni, alterazioni della funzionalità epatica e alterazioni della funzionalità renale. Queste giovani donne vanno aiutate attraverso un trattamento multidisciplinare e integrato che coinvolga più figure professionali che sono il nutrizionista che deve cercare di correggere lo squilibrio alimentare, il medico di medicina generale che è la persona di riferimento per questi soggetti e lo psicoterapeuta che cerca in qualche modo di limare e di eliminare i conflitti che hanno provocato la malattia.